Ne vuoi? Sono le otto e un quarto di mattina Invecchiato, diciotto anni Se vuoi la promozione devi guadagnartela Ve l'ho detto che Harkin mi ha costretto a bere scotch alle otto di mattina Almeno lui non ti molesta sessualmente Proviamo se funziona Oh, ciao, ma guarda, si vede il nostro piccolo amico Mettila Shabbat shalom, qualcuno è circonciso Sai, il tuo boss non sembra male Dobbiamo eliminare un po' di grasso Che significa eliminare un po' di grasso? Licenzierai quelli sovrappreso A cominciare da Large Marge Marge, puoi venire per favore? Cosa? Ma non voleva darti una promozione? Sì, infatti Bene, finalmente ho deciso chi sarà nominato nuovo vicepresidente delle vendite Io Che ha detto? Nick, per favore, sto parlando Scusi Va bene, lo so che dipende dal fatto che bevi Ammettetelo che avremmo vita più facile se i nostri boss morissero Licenzia anche il professor Xavier Vuol dire Hank Mi dai i brividi tutto il giorno a spingere le ruote della sua sedia speciale Per quanto perfidi siano, noi non ammazziamo Quel tesoruccio seduto a lei La mia fidanzata Sta per dare un'occhiata al mio fotoalbum Mi hai fotografato mentre ero incosciente Questa è la mia preferita Ci sto! Ammazziamo la bastarda! Assoldiamo un professionista Qualcuno puoi ammazzare la gente per soldi? Sarò il vostro consulente in omicidi Giura? Volete commettere un omicidio perfetto? Allora dovrà sembrare un incidente Ci vuole cervello Varrà almeno 15.000 dollari Ce la faremo Guarda come la ripulisco velocemente Vedi, guarda, sono super veloce Non mi sento più il naso Coglieteli impreparati Era un sandwich al burro d'arachidi È allergico alle arachidi? Wow, cavolo È meglio a piccole dosi? È meglio così? Il mio boss che progettiamo di uccidere Ti sta morendo davanti e tu lo salvi Detta così non sembra una bella cosa Stavo sorvegliando il tuo boss È incredibile Non dimmi quanto è sexy Sta facendo uno spuntino Un ghiacciolo, una banana E per finire uno dog Esattamente in quest'ordine Non è un pasto molto sano Da freddo a caldo Io ti posso schiacciare quando voglio Può spiegare perché andava 100 all'ora Con un limite di 40? Faccio gare su strada Con una Prius Non vinco molto Come ammazzare il capo E vivere felice Minuto